Vittori, l'anima di Fiore del Cielo, l'ideatore. Questa è la prima prova luci su uno sfondo bianco, la novità di quest'anno. Cosa ne pensa? Anzitutto tengo a precisare che sono il co-ideatore, siamo in due, c'è anche Andreas Vocola, il mio collega svizzero, che è qui per l'evento stasera, qui tra noi, sta già provando con diversi fritti di gelatina per verificare e migliorare l'effetto romano della luce nella parte pasta. Abbiamo appena iniziato, quindi è ancora difficile riuscire a dare un giudizio. Sicuramente è bellissima, è un'emozione di vedere la propria creatura illuminata qui a Piazza San Sisto. E nelle prossime ore metteremo a punto, per quanto potremo, l'apparato immunotecnico. Quindi ci stiamo lavorando e speriamo nell'ora di tempo che abbiamo a disposizione di riuscire a fare il massimo, insomma, per rendere la splendida per il prossimo 3 settembre. Stiamo lavorando. Com'è venuta questa idea del bianco? È nata da una richiesta del costruttore, di Vincenzo Fiorillo, che mi ha chiamato dicendo che riusciamo a fare qualcosa quest'anno, a portare qualche modifica di quelli che è in mente, perché so che avete tante modifiche in servo. Ho detto sicuramente. E allora abbiamo messo a tavolino varie idee e questo era il colore, alla fine era quella che nei tempi, nel barge e soprattutto nell'impatto è quella che è stata, diciamo, selezionata. In quanto cambiando i colori siamo in pressione veramente di qualcosa di rinnovato, di nuovo. Per cui credo sia stata la scelta giusta. Benissimo, grazie.